Musica Si è dimesso l'assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino Il gruppo del PD boccia la sfiducia al governo Crocetta E' morto a vagheria il principe Francesco Alliata di Villa Franca Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews Oggi è giovedì 2 luglio Come avete sentito nei titoli l'assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino si è dimesso Formalizzata questa mattina la decisione che era stata anticipata qualche giorno fa L'assessore alla sanità Lucia Borsellino stamattina ha formalizzato le sue dimissioni La comunicazione ufficiale è avvenuta con una lettera inviata al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta La decisione di lasciare l'incarico era stata anticipata martedì scorso in un'intervista a Repubblica dell'assessa Borsellino Che ha spiegato che negli ultimi mesi erano venute meno le ragioni che l'avevano portata in precedenza Ad accettare la proposta di Crocetta di far parte del suo governo Nei giorni scorsi la Borsellina aveva manifestato l'intenzione di voler portare a termine Prima di andarsene alcuni importanti nodi della sanità siciliana Tra questi tre in particolare la convenzione con l'ISMET firmata il 29 giugno La definizione delle piante organiche e del piano di riordino ospedaliero Intenzioni a cui si erano posti duramente i sindacati per nulla favorevoli al trattare con un assessore dimissionario Ed in effetti sembra sia stato proprio il rifiuto dei sindacati a sancire definitivamente l'addio dell'assessore Con lei salgono a tre gli assessori che lasciano la giunta a Crocetta La situazione politica adesso è nelle mani dei partiti Il gruppo del Partito Democratico boccia la sfiducia al governo Crocetta Ma la decisione finale spetterà la direzione convocata per sabato prossimo Il suicidio vero del PD non è staccare la spina ora ma avventurarsi nell'ennesimo rimpasto 35 assessori in 31 mesi possono bastare Ribadisco stacchiamo la spina A scriverlo il deputato regionale del PD Fabrizio Ferrandelli a conclusione della riunione di gruppo di ieri Compatti i deputati nel respingere la mozione di sfiducia Sono tutti orientati verso un rimpasto di giunta l'ennesimo L'ultima parola sui rapporti tra partita e governo spetta comunque alla direzione convocata per sabato prossimo Il gruppo intanto ha concordato di mettere alle stette il governatore sulle cose da fare Criticando certi suoi eccessi verbali e dall'altra parte di chiedere al governo Renzi maggiore chiarezza Proprio oggi l'assessore Bacei a Roma per parlare della finanziaria e dei conti della regione con la ragioneria generale dello Stato L'analisi condivisa un po' da tutte le anime del PD è che interrompere adesso l'esperienza di governo non salverebbe il PD dalla bocciatura dell'elettorato Meglio allora tentare ancora una volta di rilanciare Per Baldo Gucciardi, capogruppo del PD all'Arsa, nessuno vuole sottovalutare una crisi che oggettivamente è in atto In questo momento serve responsabilità da parte di tutti Bisogna pensare innanzitutto ai problemi dei siciliani Il DDL di riforma sugli appalti all'Arsa blocca cordate e ribassi anomali Lancia Sicilia chiede che il testo venga approvato subito prima della finestra sulla manovra di assestamento Il disegno di legge di riforma delle procedure di appalto pubblico all'esame dell'Arsa Introduce un diverso calcolo di soglia delle anomalie consentendo alle stazioni appaltanti, nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, di escludere le offerte eccessivamente distorsive Inoltre prevede una variabile di casualità che dovrebbe rendere difficile, se non impossibile, la formazione di cordate e fenomeni di turbativa d'asta Il testo, rende noto Lancia Sicilia, è stato più volte sottoposto alla valutazione tecnica da parte degli uffici legali dell'Arsa così come delle associazioni di categorie anche nazionali ed è risultato esente da vizi di legittimità costituzionale né in contrasto con la vigente normativa nazionale Il DDL interviene su una materia, quella dell'appalto di opere e forniture pubbliche sulla quale la Sicilia ha sempre legiferato negli anni avvalendosi della potestà concorrente prevista allo statuto che è norma costituzionale Pertanto, evidenzia Lancia Sicilia, nella certezza che gli obiettivi di legalità e trasparenza che il DDL introduce in questo delicato settore siano condivisi da tutte le forze politiche è opportuno che le perplessità eventualmente sorte in sede di dibattito parlamentare siano subito chiarite e superate e che si proceda celermente con l'approvazione del testo prima della finestra che sarà dedicata alla manovra di assestamento del bilancio della Regione Bypass sulla A19 La parlamentare del Movimento 5 Stelle, Azzurra Cancelleri replica duramente alle obiezioni sollevate dal commissario nominato al governo per l'emergenza sul viadotto Imera Le sue parole, dice, vanno dal tragicomico al surreale Le parole del commissario Guardabassi riferite alla bocciatura delle due proposte del Movimento 5 Stelle sull'emergenza della A19 vanno dal tragicomico al surreale La parlamentare nissena del Movimento 5 Stelle, Azzurra Cancelleri replica così alle obiezioni sollevate dal commissario nominato dal governo per l'emergenza del viadotto Imera Guardabassi, spiega la deputata del Movimento 5 Stelle confonde ad arte i due interventi da noi proposti Uno è la messa in sicurezza della Regia Trazzera che servirà maggiormente ai paesi madoniti a non restare isolati mentre l'altro è il bypass sull'autostrada che lo stesso commissario conosce benissimo perché glielo abbiamo illustrato e consegnato lo scorso 11 giugno durante un incontro al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Quanto dichiarato dunque da Guardabassi in merito all'esclusione della nostra proposta di bretella bypass ci fa veramente sorridere I motivi del rifiuto sono il fatto che avesse un costo la mancanza di macchinari del genio militare l'adeguamento della strada provinciale 24 le caratteristiche geologiche del terreno interessato Ricordo, aggiunge la Cancelleri che la nostra proposta prevedeva una spesa inferiore e comprendeva lavori fatti a regola d'arte nella totale legalità e rapidità di intervento Infine il commissario diventa ancora più comico quando dichiara di aver esplorato il nostro progetto ma che lo stesso non è praticabile sebbene affascinante Caro commissario, conclude la parlamentare Nissena a noi non interessa un bel aggettivo ma sapere quando i siciliani potranno godere dei propri diritti senza lungaggini burocratiche senza sperpero di denaro pubblico e di una soluzione sicura al 100% è totalmente antimafia Appena una famiglia su tre farà acquisti a saldo le previsioni negative di Feder Consumatori Palermo Negative le previsioni di Feder Consumatori Palermo sui saldi estivi che inizieranno sabato prossimo Con la crisi perdurante sono sempre meno infatti le famiglie che potranno permettersi di fare acquisti e negli ultimi anni, in periodo di saldi si sono sempre registrate flessioni negative meno 7% nel 2012 meno 8% nel 2013 meno 4% nel 2014 Per il 2015 si prevede una flessione delle vendite del meno 3% coloro che acquisteranno non faranno spese folli perché hanno aspettato i saldi per comprare il necessario La stagione dei saldi sta per avviarsi tra l'indifferenza dei consumatori dicono dalla Feder Consumatori Palermo le famiglie hanno davvero ben poco da spendere evidente quindi che per poter scrivere la parola fine a questo lungo periodo di crisi c'è ancora molto da fare Riteniamo importante in attesa di una piena liberalizzazione delle vendite promozionali che si avvi qualche iniziativa di rilancio A tal proposito chiediamo che per tutti i sabato del mese di luglio sia sospeso il provvedimento delle strisce blu Feder Consumatori Palermo stima che nel capoluogo siciliano appena una famiglia su tre farà acquisti a saldo spendendo in media 113 euro a famiglia Chiusura del Cassaro a Palermo già pronto il ricorso al TAR di residenti e commercianti anche se il comune non vuole fare marcia indietro A Palermo i cittadini dicono no alla chiusura del traffico al Cassaro in attesa del 16 luglio giornata in cui avrà inizio la ZTL residenti e commercianti si dicono pronti a presentare un ricorso al TAR Corso Vittorio Emanuele intanto sarà diviso a metà una parte adibita ad aria pedonale ed un'altra a ZTL Proprio nella zona traffico limitato il passaggio sarà consentito ai residenti ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine I residenti del centro storico si rivolgono al sindaco di Palermo Leluca Orlando approvando la nuova immagine che il primo cittadino sta tentando di dare alla città ma ritengono che si stia abusando con gli eccessi stoppa anche alle panchine e ai vasi per le aree pedonali che sempre secondo i residenti del Cassaro sarebbero di ostacolo per il passaggio dei mezzi di soccorso I cittadini sono quindi decisi più che mai a presentare il ricorso al TAR ma per farlo serve tempo e attendere il 16 giuglio da far trascorrere i 60 giorni di tempo necessari per l'entrata in vigore del provvedimento Sulla questione si è pronunciato anche il consigliere comunale di Forza Italia Giulio Tantillo il cui ha dichiarato che chi presenterà il ricorso per primo lo vincerà Immediata la risposta dell'assessore alla mobilità Giusto Catania che ha parlato del provvedimento generale riguardante i monumenti che verranno dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO e di come esso sia stato approvato dalla giunta La protesta di residenti e commercianti arriva all'indomani del Via Libera da parte del Comune ai lavori su Porta Nuova che prevedono la ZTL tra una settimana Il traffico chiuso su Porta Nuova viene deviato su corso Alberto Amedeo che prevede il doppio senso di circolazione sino al mercato delle pulci Da Piazza Domenico Peranni gli automobilisti invece diretti al Tribunale devono passare per Via Papireto In Sicilia è arrivato il caldo africano nei prossimi giorni si toccheranno punte di 38-39 gradi Nuova ondata di caldo su tutta l'Italia previsti picchi di 37 gradi I meteorologi del centro Epsom avvertono la popolazione e lanciano l'allarme per anziani e bambini Temperature rialzo anche in Sicilia ma la situazione sarà più umida con temperature che si aggireranno intorno ai 30 gradi nella maggior parte dell'isola Le regioni più colpite dall'imminente ondata di caldo dovuta all'anticiclone nordafricano sono la Sardegna il Lazio, la Toscana e il Trentino dove a Bolzano il barometro sfiorerà i 40 gradi A fa anche sul resto delle regioni del nord e in quelle tireni che si tornerà a respirare la notte quando le temperature minime saranno lievemente superiori ai 20 gradi soprattutto nei centri urbani Venerdì è previsto il primo bolino rosso per tutta la popolazione particolare attenzione ad anziani, bambini e persone affette da determinate patologie come il diabete Secondo la Coldiretti quest'anno quasi 4 milioni di anziani devono rivedere le proprie abitudini per combattere l'ondata di caldo Fra le indicazioni che danno gli esperti in primis c'è quella di assumere molta acqua e di bagnare spesso la testa non esporsi al sole in determinate ore della giornata e preferire la mattina o il tramonto attenti anche alla comparsa di alcuni sintomi come la sudorazione, la tachicardia e l'aumento della temperatura corporea soprattutto sui soggetti cardiopatici a rischio anche i più piccoli che potrebbero avere il colpo di calore per via della loro ridotta superficie corporea che fa sì che vi sia una minore traspirazione i sintomi tipici sono nausea, mal di testa aumento della temperatura corporea crampi e svenimenti per ridurre i rischi gli esperti consigliano di diminuire l'apporto caloriche in particolare quello fornito da cibi grassi e aumentare quello di acqua, frutta e verdura Cambiamo argomento è morto nella residenza di famiglia Bagheria il principe Francesco Alliata di Villa Franca aveva 95 anni Si è spento all'età di 95 anni nella sua residenza di famiglia Bagheria, Villa Valguarnera Francesco Alliata principe di Villa Franca Recentemente era uscito il suo libro Il Mediterraneo era il mio regno memoria di un aristocratico siciliano un uomo che ha vissuto pienamente il suo tempo con intelligenza e consapevolezza aveva svolto il servizio militare in qualità di operatore cinematografico sue sono pertanto diverse scene d'archivio legate ai bombardamenti e alla liberazione della Sicilia da parte degli alleati ma la passione per il cinema lo portò a fondare la Panaria Film una casa produttrice cinematografica che con Roberto Rossellini produsse tra gli altri anche il film Vulcano con Anna Magnani Nella Villa Valguarnera la più sontuosa ed elegante delle ville della splendida vallata ospite degli Alliata sarebbe stato anche Ferdinando II re di Napoli i funerali si svolgeranno a Palermo nel cimitero di Sant'Ossola siamo rattristati per la scomparsa di un uomo che ha contribuito a far conoscere la Sicilia nel mondo con la sua attività cinematografica e culturale oltre che imprenditoriale dice il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque alla famiglia esprimo le mie più sentite condoianze e dell'amministrazione comunale La quattordicenne Maria Luisa Cirincione è stata eletta qualche giorno fa a Miss Baria ascoltiamola Sono molto contenta e anche molto entusiasta di questo percorso e alla fine non me l'aspettavo che avrei vinto Pensavi di poter arrivare a questo risultato? Durante il percorso un po' sì solo che alla fine mi ero un po' ricreduta perché sta avvicinando la fine e quindi ero un po' insicura Come sei arrivata a fare questo concorso di Miss Baria? Qual è stato l'anello, il tramite? Chi ha fatto da tramite? Come hai saputo che c'era questa manifestazione? Sono venuta a conoscenza di questa manifestazione tramite una scuola di danza che mi c'era iscritta Il proprietario conosceva l'organizzatore del concorso e mi ha chiesto siccome ero appassionata di questo mondo mi ha chiesto se volevo partecipare e io non ho sentito ad accettare In questi giorni cosa stai facendo? In questi giorni sto partecipando a varie manifestazioni sono stata al Museo dell'Aciuga di Michelangelo Balistreri domani sarò al Barrester Andrai pure nei comuni vicini sei stata invitata? Sì sono stata invitata dal Sineco di Trabbia per partecipare a questa sfilata una sfilata medievale dove farò parte della giuria e farai un po' da madrina della manifestazione domani dalle 10 alle 18 in piazza Unità d'Italia a Palermo raccolta viveri e farmaci per i cani del rifugio della favorita è possibile donare croccantini e scatolette di cibo medicina collare e guinzagli e qualsiasi altro bene possa essere utile agli amici a quattro zampe al banchetto anche gadget della Lega Nazionale per la difesa del cane il cui ricavato andrà in beneficenza ed è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni l'etonio a Grazie a tutti.